Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. So che 30 medici e infermieri non riverseranno il rapporto tra la forza amicidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco da quella parte del mare. Ma so anche che anche laggiù è oramai casa nostra. Da quando l'Italia e le nostre sorelle e i fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l'Albania bruciava di dolori immensi. Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate. Ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate. Mentre in Italia dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi feriti dal nemico hanno un enorme bisogno di aiuto. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Questa è una guerra dove nessuno può vincere da solo. E voi cari membri coraggiosi di questa missione per la vita state partendo con una guerra che è anche la nostra. E l'Italia la deve vincere e la vincerà questa guerra anche per noi e anche per l'Europa e il mondo intero.